ah 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 sei stato rapito nooo ora ti vende al mercato nero ah ah eh ma la mascherina? eh la mascherina? la devi mettere la mascherina siamo in zona rossa va bene mi metto la mascherina ecco bravo stavo dicendo sei stato rapito ah eh il tampone? eh pure il tampone se non sei negativo non mi puoi rapire perché c'è il covid va bene lo vado a fare ecco tampone fatto sono negativo ora sei stato rapito ok va bene stavo dicendo ora ti vende al mercato hai starnutito c'è il covid no 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 non ho il covid ah sono salvo